Si avvicinano le feste e quindi i brindisi, le mangiate e le grandi abbuffate. Un consiglio per fare un aperitivo leggero e sfizioso è quello ad esempio di preparare un bel hummus di ceci. Pochi ingredienti semplici, ceci cotti, salsa di sesamo, mezzo limone, uno spicchio d'aglio, un ciuffo di prezzemolo e un po' di semi di sesamo per guarnire. Mettiamo tutto nel mixer, io per semplificare l'ho già preparata, poi mettiamo un mix di semi e poi perché no lo accompagniamo insieme a un bel pinsimonio fresco e a dei taralli così da avere un po' di sana energia e un pieno di sali minerali e di fibre. E allora buon aperitivo con leggerezza e senza avere sensi di colpa.